Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'incontro con Soada Miri e alla presentazione del suo ultimo libro pubblicato da Mondadori che si intitola Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea. È un grande piacere fare questa conversazione insieme a Soada. Soada Miri è un'architetta palestinese, presidente e fondatrice della fondazione Rewak che è attiva nella conservazione del territorio e del paesaggio. Ha esordito come scrittrice nella narrativa nel 2003 con il diario di guerra Sharon e mia suocera ambientato a Ramalla durante un lungo assedio e da allora ha pubblicato moltissimi libri e vinto premi prestigiosi come il premio internazionale di Areggio, il premio Nonino e pubblicato appunto molti libri da Niente Sesso in Città, ne cito qualcuno, a Damasco, Golda ha dormito qui, Murad Murad, tutti pubblicati da Feltrinelli, sempre ambientati in Palestina e sempre caratterizzati da un modo di raccontare, da un taglio e uno sguardo sempre originale e spiazzante e da un tono di grande ironia mista a saggezza che sorprende sempre il lettore. Un po' come da architetta Soada Miri si occupa di conservazione del paesaggio, anche da scrittrice sembra rispondere a questa stessa vocazione andando a raccogliere per poi trasmettere e consegnare alla memoria la storia del suo popolo e della sua terra, la Palestina. Soada frequenta da molti anni anche l'Italia, ha imparato l'italiano e credo le faccia molto piacere dare un saluto in italiano ai lettori e alle lettrici presenti questa sera. Grazie Sonia, molto gentile. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Mi dispiace molto che non sono con voi, pace a pace. Sono arrivata da Palestina, ho fatto un viaggio lunghissimo, ma strano che sono ora in Umbria e non posso arrivare al nord. Speriamo che questa Covid finisce presto. Grazie tanto. Ecco, allora Soada è una storyteller nata, una racconta storie molto istintiva e questo chi ha anche il privilegio di frequentarla nella vita privata lo sa e lo sente e ne fa esperienza quotidianamente. Ma sarei anche curiosa e vorrei chiederti Soada dove nasce l'isperazione per queste storie che poi tu racconti e in particolare come è nata l'idea di scrivere questo libro, Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea. Ok, prima, prima, first of all, I changedi into English, it's easier for me. Ever since I was a little girl, maybe not the audience have not met a dyslexic writer, but I am dyslexic as a child, I was always. And we dyslexic people depend on listening and seeing. And that's why I became an architect by looking around, by being in Damascus, a beautiful city. I ended up being an architect, and I always liked telling stories, actually. Ever since I was a little girl, I wouldn't allow anybody in the family to tell a joke or a story except me. But to tell you the truth, Sonia, I never realized the relationship between storytelling, Hakawati in Arabic, and writing. I always thought that writing is about grammar, complicated language, complicated words. Little I realized that really writing is about telling a story, which I have always liked. It took my mother-in-law to come and live with me in 2002, 2003, and drive me crazy. Being 91 years old, we were stuck together for 44 days. And, you know, I started writing out of, as a therapy for me, having the Israeli army out of my house, and my mother-in-law inside my house, really made the writer out of me. And I am very happy that this accident happened. Sì, allora passo all'inglese. Forse al pubblico di questa sera non è mai capitato di incontrare una scrittrice dislessica, ma io sono dislessica e lo sono sempre stata, anche da ragazzina, e noi dislessici dipendiamo dalle storie che sentiamo e dalle cose che vediamo, e queste sono anche proprio le qualità che mi hanno portato a diventare un architetto. Mi guardavo intorno in questa bellissima città, Damasco, e appunto da lì è nata l'ispirazione per diventare un architetto. Ho sempre amato molto anche raccontare le storie, anche qui fin da bambina non ho mai permesso che in famiglia ci fosse qualcun altro oltre a me a raccontare una barzelletta o una storia, ma per essere sincera non avevo mai in passato messo in relazione la pratica del raccontare le storie e quella della scrittura. Per me appunto la scrittura era collegata alle regole della grammatica, alla difficoltà lessicale, e invece in fondo scrivere è raccontare una storia. c'è voluta mia suocera per farmi capire questa cosa, e la dura convivenza nel 2002, quando sono stata bloccata in casa con mia suocera per 44 giorni, mia suocera che mi faceva impazzire, e io che appunto impazzivo avendo l'esercito israeliano fuori di casa, e mia suocera dentro casa, ho fatto ricorso alla scrittura proprio come una forma di terapia, e sono stata molto contenta di fare questa scoperta. As for this book, Sonia, Storia di un habito inglese, una mocca e breia, as you know, my last book was Damascus, it was about my mother, a homage for my late mother, a city where I was born, and it left a big influence in me. I always say that I grew up in the presence of Damascus, my mother's city, and in the absence of my father's city, which was Jaffa. Jaffa, I had to imagine from a distance. I am a daughter of a refugee family that were thrown out of our homeland in 1948, and grew up in Jordan, and I always listened to my father telling stories about Jaffa, about his home, about his school. So I had to imagine Palestine from a distance, Jaffa from a distance, and my father's house from a distance. But it was always, Damascus was a joy for me, and Jaffa was always a sadness for me, a loss for me. It stayed there, and my father always wanted to go to see his home, and he did one time, and it was a very difficult experience. He came back depressed, and it was the only time, or the first time I see my father crying, and that left a big impact on little girl. Since that time, I always wanted to write something about my father, but these days, with the number of refugees in all over the world, I have decided that maybe it was time for me to go to Jaffa, find my father's house, and write a story about my father. Unfortunately, my father's house I couldn't find. It's probably destroyed, like the whole neighborhood of al-Manshiyye, where Subhi, the main character of this book, comes from also. Maybe Subhi, in a way, in this, the main character of my book, could also be my father, in one way or another. So this is how it came about. By pure accident, I met Shams, who is 84 years old, and Subhi, who is 92 years old, and I learned about their love story, and in a way, it substituted my father's story. Sorry for the long intervention, I know you are very brave in translation. Per quanto riguarda storia di un abito inglese e di una mucca ebrea, il mio libro precedente a questo era Damasco, un omaggio a mia madre. Damasco è la città in cui io sono nata, è la città che ha esercitato un enorme impatto su di medico. sempre che io sono cresciuta nella presenza di Damasco, la città di mia madre, e nell'assenza di Jaffa, invece, la città di mio padre. Jaffa è una città che io ho sempre dovuto immaginare. Io sono la figlia di una famiglia di rifugiati, che sono stati cacciati dalle loro case nel 1948. Sono cresciuta in Giordania e ho sempre sentito le storie raccontate da mio padre della sua città, Jaffa, della sua casa, della sua scuola. E quindi tutto questo, la Palestina, Jaffa, la casa stessa di mio padre, erano delle entità che io vedevo da lontano. Damasco era una grande fonte di gioia e di felicità, mentre Jaffa evocava un senso di perdita e di tristezza. Mio padre, a un certo punto, era tornato a Jaffa per cercare di ritrovare la sua casa, ma era tornato a casa estremamente avvilito, e fu quella la prima volta che vedi mio padre piangere, un'esperienza molto, molto difficile che ebbe un grandissimo impatto su di me da bambina. E ho capito di voler scrivere qualcosa su mio padre e sulla città di Jaffa. E ho capito anche che forse era venuto il momento di farlo, di andare a Jaffa e scrivere questa storia. Ho cercato la casa di mio padre, che purtroppo non ho potuto trovare, che probabilmente è andata distrutta, come la maggior parte delle case del quartiere di El Manchie, che è poi anche il quartiere in cui abita Subhi, il protagonista di questo romanzo, e che in un certo senso è collegato, ispirato alla figura di mio padre. Per puro caso ho incontrato Shams, che è il personaggio di Shams, che aveva 94 anni quando l'ho incontrata, e Subhi 92, o forse il contrario, 92 Shams e 94 Subhi. No, scusami, 84 Shams e 92 Subhi. Ah, ecco, 84 Shams, scusate. Sono dislessica! E tramite loro due sono venuta a conoscenza di questa bellissima storia d'amore, ed è così appunto che questo romanzo, in un certo senso, ha preso il posto della storia che volevo scrivere su mio padre, ed è in un certo senso un libro su Giaffa. È vero. E anche, più di, direi, di tutti i tuoi libri precedenti, di un romanzo a tutto tondo, in cui la prima persona, che invece è la persona che usi per scrivere in tutti gli altri tuoi libri, in cui la prima persona non compare, se non appunto nell'epilogo, ed è una storia d'amore fra due giovanissimi, un giovanissimo meccanico, il più bravo meccanico della città di Giaffa, e Shams, invece, una ragazzina che vive in campagna fuori Giaffa. I due si incontrano in questo contesto idilliaco, in una grandissima festa, un grande festival fuori città. Nasce questa storia d'amore, diciamo, adolescenziale. Ma il romanzo è anche un romanzo storico, in cui racconti, proprio partendo da quello che succede alla città e ai suoi personaggi, racconti la Nakba, cioè la catastrofe, che segna, è sicuramente il momento più importante della storia della Palestina, e anche il momento che segna l'inizio, la nascita di tutta la tormentata storia della Palestina. Come sei riuscita a tenere insieme queste due anime che troviamo nel libro? Ok, always in my writing, really, I am more interested in the average people and everyday people, rather than the big stories or the manchet that we see on television or we see in the newspaper. When you listen to the newspaper, you always think that there are two armies fighting one another. In reality, there has been a people that have been thrown out of their homeland. In Nakba is a word, is a feeling, is a life that we live every second of our life. We are actually a nation that has been frozen in something called in Nakba, which is the catastrophe that happened in 1948 when 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, not 10% or 20%, 90% of the Palestinian people were thrown out of their homeland, of their homes, their schools, their hospitals. And my family happened to be one of them. So for every Palestinian in Nakba is a tragedy. And unfortunately, to understand what's happening between Palestinians and Israelis today, we have to understand what happened to the Palestinians in 1948. But for me, really, I don't like to write neither political essays nor historic books. What I am interested in is how wars affect human beings, individuals. And for me, it was very important to tell the story of this little girl who is 13 years old and little boy, Subhi, who had aspiration, who was in love, who did all he could in his life to marry this young woman. And in this book, actually, it's divided into two. One is before when I wrote this story, I always say when I wrote this novel, I drew an arc, a parabola. At the top of the parabola is a love scene in which Subhi is expressing his love by making colorful kites for little shams. Before that, we learn about Jaffa. Jaffa was the biggest city in Palestine. It had 120,000 people before 1948. Through Subhi, I personally learn a lot about how Jaffa was an open city, cosmopolitan city that had communities, Arabs, Jews, Greeks, Muslims, Italians, name it. It was also a rich city because of the orange trade. So we see how vivacious this city through the eyes of little Subhi. But then the war of 1948 happens and we start learning the tragedy of Shams. How a little girl who was 13 years old, I don't want to spoil the story for the reader, but the kind of tragedies and losses she goes through in this war by losing, losing, losing. And I stop here because I don't want to spoil the book. And I, in 2018, I meet them as older people who narrate their stories and it was beautiful. I learned so much from them. Wow, Sonia, you have to translate seven pages. Ma io sempre quando scrivo, scrivo della gente comune. Non voglio raccontare le grandi le grandi storie, dei grandi personaggi di cui leggiamo nei giornali o di cui sentiamo alla televisione. Quando leggiamo i quotidiani abbiamo l'impressione che si tratti di due eserciti che si fronteggiano. La realtà è che ci sono persone, che la gente è stata cacciata fuori dalle proprie terre, è stata cacciata fuori dalle proprie case. La Nakba è un ricordo e un sentimento con cui noi conviviamo ogni secondo della nostra vita. Noi siamo possiamo dire una nazione congelata nella Nakba e la Nakba è appunto la catastrofe, significa catastrofe del 1948, l'evento in cui 90%, sottolineo 90% della popolazione palestinese è stata cacciata fuori di casa espulsa dalle proprie terre, ha perso le scuole, gli ospedali e io appartengo a una di queste famiglie. Tutti i palestinesi, tutta la popolazione palestinese ha vissuto la tragedia della Nakba e per capire la situazione di oggi fra Israele e Palestina è necessario tornare indietro al 1948 e a questo momento. Io però non voglio né scrivere saggi politici né libri storici, quello che mi interessa fare è capire che impatto ha avuto la guerra, ha avuto il conflitto sugli esseri umani e quindi guardando ai miei due personaggi a Shams e a Subhi un ragazzino che aveva delle ambizioni, delle aspirazioni, delle speranze, era innamorato cotto, era pronto a tutto per sposarsi con questa ragazzina vedere come sono crollate tutte queste sue aspirazioni. Il libro è diviso in due parti e io dico sempre che quando ho immaginato lo schema ho disegnato una parabola. Il momento più alto della parabola corrisponde alla scena d'amore principale, quella in cui Subhi fa la sua dichiarazione alla sua Shams costruendo aquiloni colorati bellissimi che fa volare in cielo. Tutto quello che precede questo momento riguarda Giaffa prima del 1948. Giaffa era allora la città più grande della Palestina con 120.000 abitanti prima del 1948 e attraverso gli occhi di Subhi ho scoperto molte cose su Giaffa che era appunto una città estremamente aperta, cosmopolita, mediterranea, una città che ospitava comunità da tutto il mondo arabi, ebrei, greci, italiani e una città anche estremamente ricca per via del commercio delle arance. Questa città appunto si vede attraverso gli occhi di Subhi. Poi arriva il 1948 e l'attenzione si sposta su Shams e sulla tragedia vissuta da Shams, da questa ragazzina di 13 anni che appunto senza volere anticipare nulla del libro attraversa, vive, sopporta tutta una serie di tragedie familiari, lutti, perdite a causa della guerra. Ripeto, non voglio rovinare la lettura, dico solo che nel 2018 ho conosciuto appunto i veri Subhi e Shams due persone deliziose da cui posso dire di avere imparato moltissimo. Ok, allora, guardo solo, quindi abbiamo parlato dell'importanza delle città per l'ispirazione di Soad Amiri, di Damasco in passato, di Jaffa in questo caso. Accennando un momento alla situazione di oggi, cosa diresti che Jaffa rappresenta oggi per i palestinesi e per la Palestina? Ok, as I said, Jaffa was one of the most vivacious city in 1948 actually, the tragedy of the Palestinians that we have lost our urban centers. Most of the cities in historic Palestine were actually in the coastal area which became Israel starting from the city of Gaza to Ascalan Jaffa Ramli Lidd Akka Haifa All the cities actually of Palestine most except for Jerusalem and Nablus all the cities were in what became Israel So we Palestinians have lost our urban culture and sometimes Palestinians say that Israel was founded on the fertile land and we were thrown into the mountains into the Ragadi mountains so for the Palestinians it's the loss of the urban life the loss of the sea also people always talk about losing a country but very few people talk about the loss of a sea and what it means the sea has its own culture there is a culture in Palestine where we call the sea against the mountain so for the Palestinians we feel that many of the middle class the richer class we have been beheaded if you want most of the urban people became refugees in the Arab world all over the world and we became the wandering Jews of the 20th century Jaffa was the inspiration for what Palestine could have been if you go to Jaffa today you can still see the beauty but unfortunately you see how Jaffa had become a small part of Tel Aviv the bigger city and also that the 120,000 Palestinians only 2,000 Palestinians were left in Jaffa so it was the hope and now it became one of the saddest scenes to see how the Arab community in Israel is being treated as second or third class citizen but for me the most beautiful scene is really to see Shams in Jaffa that was my biggest moment in my life I must say it gave homage to my father because there is a woman who went through so much losses and she was one of the most solar Shams is solar in Italiano so it was a big lesson for me to see how could a human being lose so much in their lives but stay positive stay forgiving stay calm tranquillity she is for me what if we human beings can be that forgiving and that serene after all of the drama there is hope in life gaza l'id haifa jaffa tutte le città eccezion fatta per gerusalemme nablus sono erano città palestinesi che sono diventate di israele e così abbiamo perso la nostra cultura urbana abbiamo perso la nostra cultura urbana e abbiamo perso anche la cultura del mare si fa spesso riferimento all'aver perso la propria terra ma anche aver perso il mare ha un'importanza decisiva e la cultura del mare diciamo spesso appunto che sono due culture che si in qualche modo contrappongono quella del mare e quella delle montagne e noi in Palestina in qualche modo siamo stati decapitati ne abbiamo perso un pezzo i palestinesi dei centri urbani sono per la grandissima per la maggior parte diventati rifugiati che si sono sparsi intorno al mondo e in qualche modo forse siamo diventati nuovi ebrei erranti del ventunesimo secolo Jaffa è l'immagine di quello che la Palestina avrebbe potuto essere ed è rimasta invece solamente un piccolo quartiere all'interno di Tel Aviv dei 120.000 abitanti di Jaffa solo 2.000 sono rimasti a Jaffa e quella quindi che un tempo era per noi il simbolo della speranza è diventata invece l'emblema della tristezza nel vedere come la comunità palestinese araba venga trattata come appunto cittadini di seconda classe è stata una grande gioia per me vedere che Shams abitava ancora a Jaffa in qualche modo mi è sembrato anche un omaggio alla figura di mio padre con tutte le perdite e tutto il dolore che una persona come Shams ha dovuto sopportare vedere quanto si è rimasta una persona felice solare davvero è stata una grande lezione per me capire come nonostante Shams avesse perso così tanto sia rimasta positiva abbia comunque conservato la capacità di perdonare e di esprimere una grandissima calma lei per me davvero mi ha fatto pensare che se una persona come lei può ancora essere così serena allora davvero vuol dire che c'è speranza per tutti there is hope in life after all volevo solo in conclusione chiedere ancora due piccole cose a Soad abbiamo fatto riferimento prima alla tua ironia nel tuo senso dell'umorismo nel raccontare le cose e siccome questa è anche una domanda che mi sembra ti viene rivolta spesso dai lettori come fai ti viene in modo naturale ci pensi su è una tecnica se ci dici qualcosa a questo proposito perché colpisce tutto è È una cosa che devo dire mi viene naturale, io prendo in giro tutti e tutto anche nella tragedia, prendo in giro le persone che mi circondano, prendo in giro la vita quando qualsiasi cosa capita. Credo che il senso dell'umorismo e l'ironia siano strumenti di umanità, quando vivi sotto l'occupazione per 50 anni e ti trovi di fronte il tipico soldato israeliano che tenta in tutti i modi di toglierti quest'umanità, di deumanizzarti, per ricreare l'equilibrio io faccio ricorso al senso dell'umorismo, questo è proprio il trucco, attraverso una battuta si riconquista l'umanità, quando capisci che in fondo dovremmo avere tutti gli stessi diritti e che se io avessi quello a cui io ho diritto e tu quello a cui tu hai diritto tutto questo problema non ci sarebbe. Credo anche che non si possa raccontare una tragedia con la tragedia, spesso le persone solo a sentire la parola palestina vanno già in ansia, e invece in realtà le persone che si trovano a vivere in situazioni tragiche spesso sviluppano un grandissimo senso dell'umorismo, che è un po' quello che è successo appunto con la scrittura di Sharon e mia suocera quando mi sono resa conto che la grande potenza del Medio Oriente era proprio questo, l'equilibrio di potere era avere da un lato l'esercito israeliano e dall'altro mia suocera dentro casa mia, oppure avere un cane, il mio cane, che ha un passaporto con il quale può tranquillamente recarsi all'aeroporto di Tel Aviv e partire dall'aeroporto di Tel Aviv, cosa che a migliaia di palestinesi non è concesso. È così. Questo è un ottimo esempio questo del cane. Grazie Sonia. Bene, ringrazio moltissimo Soade, è sempre un piacere passare un po' di tempo insieme a te. Grazie, grazie tanto, grazie per la gente, per tutta l'audience. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutte e tutti. A nome dell'amministrazione comunale della Città di Cuneo ho il piacere di darvi il benvenuto alla ventiduesima edizione di Iscrittori in Città. Ringrazio il Circolo dei Lettori e Suad Amiri per aver voluto essere con noi in questo primo incontro di una rassegna speciale in cui gli autori entreranno direttamente nelle case dei nostri appassionati lettori per fornirci la loro declinazione del tema prossimo che è stato scelto in tempi non sospetti ma che ben si presta a riflessioni importanti sull'attualità. Grazie per essere stati qui con noi questa sera e vi aspetto alle prossime puntate di Iscrittori in Città 2020. Grazie a tutti.